Bracciano ancora per voi i Sudurban Grill. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina, noi siamo i Sudurban Grill, Massimo e Michela. E tra poco andrà in onda Grigliate Urbane, la rubrica dove si sperimenta l'eccellenza. Proviamo ad unire piatti tradizionali con tecniche innovative alla brace, utilizzando il nostro barbecue urbano insieme agli utensili presenti in tutte le nostre cucine. Grigliate Urbane va in onda sui nostri canali social YouTube e Instagram cliccando Sudurban Grill. E infine voglio ricordarvi il nostro sito internet www.grigliateurbane.com Siete curiosi di vedere cosa sperimenteremo oggi? Beh, mettetevi comodi e buona visione! Oggi prepariamo il tiramisù. Sono necessari pochi e semplici ingredienti. Una confezione di saoiardi, 500 g di mascarpone, 5 uova intere, 5 cucchiai di zucchero, un bicchiere di latte, 8 tazzine di caffè zuccherato, cacao amaro in polvere e gocce di cioccolato. Iniziamo separando in due ciotole i turli dagli albumi. Aggiungiamo i 5 cucchiai di zucchero ed iniziamo ad amalgamare il nostro composto fino ad ottenere una crema omogenea. Continuiamo inserendo tutto il mascarpone e mescolando con movimenti rotatori dal basso verso l'alto fino a quando non avremo ottenuto un impasto omogeneo, denso e senza alcun grumo. Adesso montiamo a nevi gli albumi con l'aiuto di uno sbattitore elettrico fino ad ottenere una densità ottimale che si avrà quando il tutto è ben fermo e non cola. Inglobbiamolo nel composto precedente in maniera graduale e mescoliamo con un cucchiaio di legno dal basso verso l'alto per non sgonfiare il preparato. Alle 8 tazzine di caffè zuccherato che abbiamo precedentemente preparato inseriamo circa 200 ml di latte tipido il strutto posizionato in un recipiente comodo per bagnare i savoiardi. Cospargiamo la base della pirofila scelta con un abbondante strato della crema al mascarpone appena creata che permetterà di ottenere un buon supporto per la prima fila di savoiardi. Immergiamo questi ultimi nel caffè e latte per qualche secondo fin quando li iniziamo a sentire leggermente ammorbiditi ma non tanto da fargli perdere la loro consistenza e forma. Sgoccioliamo poggiandoli delicatamente al recipiente in modo che il liquido in eccesso non vada nel dolce finale. Procediamo fino a completare il primo strato. Adesso ricopriamo con un'abbondante quantità di crema al mascarpone spargiamo la superficie di cacao possibilmente con l'aiuto di un colino ed infine una bella dose di gocce di cioccolato bianco nero. Ripetiamo il procedimento precedente per creare il secondo strato e ricopriamo il nostro dolce con tutto il mascarpone rimanente tentando di livellare il più possibile la superficie ed ottenere un effetto liscio e lineare. e ricopriamo il nostro dolce con il nostro dolce. tutto cospargendo con abbondante polvere di cacao amaro facendo attenzione a non lasciare intravedere il mascarpone sottostante. Il nostro tiramisù è completo, lasciamolo riposare in frigo un paio di ore e poi sarà pronto per essere servito. Grazie per la visione!